Ciao a tutti! Nella lezione di oggi abbandoniamo momentaneamente lo spazio 3D e parliamo dei metodi di fusione. I metodi di fusione controllano il modo in cui un livello si diffonde con i livelli sottostanti. Praticamente fanno sì che si vedano contemporaneamente tutti i livelli, un po' come quando si abbassa la trasparenza di un livello così che si vedano appunto i livelli sottostanti. Bene, iniziamo. Come vedete nella timeline c'è già presente una fotografia e i metodi di fusione li troviamo in questo menu qua e precisamente sono tutti questi qui e se per caso nella vostra timeline al momento non compare la colonna mode allora cliccate con il tasto destro in questa zona qui e da columns attivate appunto modes e a questo punto la colonna mode è attiva. I metodi di fusione come vedete sono divisi in varie sezioni separate da queste linee che vedete qui. Diciamo subito che i metodi di fusione che si usano di più sono quelli che appartengono alla seconda, terza e quarta sezione cioè quelli che cominciano con darken, add e overlay e quindi cominciamo a vedere attentamente questi qui e poi dopo passeremo in rassegna rapidamente anche gli altri. Bene, per chiarire meglio il loro funzionamento li applicherò a un'immagine particolare composta solo di bianco, nero e grigio. Quindi prendo questa immagine e la aggiungo nella timeline. Come vedete è composta di tre colonne. Nella prima colonna ci sono pixel perfettamente bianchi, nella seconda colonna pixel grigi precisamente con luminosità al 50% e una terza colonna di pixel tutti perfettamente neri. Benissimo. Incominciamo dai metodi di fusione che vanno da darken a darker color. Tutti questi hanno in comune il fatto che annullano i pixel bianchi del livello e fonderanno soltanto i grigi e il nero tenendo un risultato più scuro. Proviamo e cominciamo con darken. Come vedete qui i pixel bianchi sono completamente trasparenti e quindi qui la fotografia che sta al di sotto la vedo come la vedevo prima. Mentre i pixel grigi si fondono con la fotografia sottostante e la scuriscono leggermente. E addirittura i pixel neri si sommano così come sono con la foto sottostante e quindi vedo tutto nero. Bene, proviamo anche gli altri. Multiply per esempio. E anche Multiply funziona in modo simile al precedente. Cioè i pixel bianchi spaiscono del tutto, quelli grigi si fondono con l'immagine sottostante, questa volta in modo diverso rispetto al primo metodo. E di nuovo i pixel neri si sommano così come sono. Proviamo rapidamente anche gli altri. Color burn, classic color burn, eccetera, eccetera. Ma ripeto, la cosa in comune che tutti questi hanno è il fatto che i pixel bianchi sono spariti mentre quelli grigi e neri si fondono in modo diverso. E comunque il risultato finale della fusione di questi due livelli è sempre un'immagine più scura dell'originale. Bene, adesso proviamo la categoria immediatamente successiva, quella che va da Add a Lighter Color. E in questo caso questi metodi di fusione si comportano esattamente all'opposto di quelli precedenti. Cioè in questo caso saranno i pixel neri ad annullarsi e saranno quelli grigi e bianchi a fondersi con il livello sottostante. E come vedremo il risultato finale sarà un'immagine più chiara. Proviamo. Cominciamo con Add. Come vedete i pixel neri sono spariti e sotto vediamo la fotografia esattamente com'era all'origine, mentre i pixel grigi si fondono con la fotografia sottostante schiarendola e addirittura i pixel bianchi si sommano così come sono. Proviamo rapidamente anche gli altri. Lighten, Screen, Color Dodge, eccetera eccetera. E come vedete la cosa in comune è che sempre i pixel neri spariscono, mentre quelli grigi e bianchi si fondono in modi diversi. Bene, adesso proviamo la categoria successiva, quella che va da Overlay a Hard Mix. E questi metodi di fusione hanno in comune il fatto che sono i pixel grigi al 50% dei luminosità che si annulleranno, mentre i pixel bianchi e quelli neri si fonderanno con l'immagine sottostante, sia schiarendola sia scurendola. Quindi in generale diciamo che il risultato finale è un'immagine più contrastata dell'originale. Proviamoli. Cominciamo con Overlay. Come vedete i pixel grigi sono spariti e sotto vedo la fotografia così com'era, mentre il bianco si è fuso con l'immagine sottostante schiarendola, mentre quelli neri l'hanno scurita. E la stessa cosa succede anche con gli altri metodi. Soft Light, Hard Light e ogni volta il grigio sparisce sempre, mentre il bianco e il nero si fondono in modi diversi, eccetera, eccetera. Benissimo. Ovviamente di queste tre categorie ci sono metodi di fusione che si usano più di altri. Diciamo che nella prima categoria il metodo di fusione che di solito si usa è il Multiply, mentre invece nella categoria di Add i metodi di fusione che si usano di più sono Add e Screen. Come avete visto Add un po' più forte e Screen un po' più neutro. Mentre nella terza categoria sicuramente il metodo più usato è Overlay. Bene, prima di proseguire vi faccio notare che la fusione avviene non solo con il livello sottostante, ma con tutti i livelli che stanno al di sotto. Cioè se per esempio aggiungiamo sotto il bianco, il nero, il grigio una seconda immagine, per esempio questa, e magari la spostiamo un poco più in alto. Come vedete in questo caso il metodo di fusione Overlay agisce contemporaneamente su tutte e due le fotografie che stanno al di sotto. Nella colonna dei grigi le fotografie sotto le vedo con i loro colori originali, nella colonna dove c'era il bianco le vedo più chiare e nella colonna dove c'era il nero le vedo più scure. Bene, adesso eliminiamo pure questa seconda foto e anche il bianco, grigio e nero e proviamo a applicare queste tre categorie di metodi ad immagini un poco più interessanti. Per esempio prendo questa immagine qui, cioè l'immagine di alberi senza foglie su uno sfondo perfettamente bianco e naturalmente vorrei che il bianco sparisse. Quindi in questo caso i metodi di fusione adatti sono quelli della categoria di Darken e come vi avevo detto prima di solito si usa il metodo Multiply. Proviamo e quindi i pixel bianchi sullo sfondo si annullano mentre i pixel neri si sommano perfettamente alla fotografia sotto e il risultato è questo. Proviamo un'altra immagine, per esempio questa liquido rosso. In questo caso si tratta di un video di un liquido a punto rosso su uno sfondo bianco. Anche in questo caso vorrei vedere la foto e in sovraimpressione soltanto la parte colorata del liquido. E quindi ancora il metodo di fusione adatto è quello della categoria di Multiply. Proviamo e subito i pixel bianchi spariscono. Ovviamente si possono provare anche gli altri metodi di fusione della stessa categoria. Per esempio se usassi Linear Burn i pixel bianchi spariscono sempre mentre la parte colorata diventa in questo caso più scura. Benissimo proseguiamo. Togliamo anche questo. Proviamone un altro. Questo per esempio pellicola rovinata. In questo caso si tratta di un video che contiene i graffi e le macchie di una vecchia pellicola. Eccoli qua. Questi sono i graffi e poi le macchie qua e là. Benissimo. Anche in questo caso voglio eliminare i pixel bianchi e mantenere soltanto i graffi e le macchie. Quindi di nuovo applico un metodo di fusione della categoria Multiply. Proviamo subito Multiply. Il risultato finale è questo. E se volessimo avere queste macchie e queste righe più nere più intense potremmo provarne altri. Riproviamo anche in questo caso Linear Burn e anche in questo caso la differenza salta subito all'occhio. Come vedete i graffi e le macchie sono più visibili. Bene. Togliamo anche questo effetto. Proviamo in un altro. Le fiamme. Qui invece abbiamo un altro caso. Cioè vogliamo che lo sfondo nero di questo video venga annullato e rimangano soltanto le fiamme in sovraimpressione alla fotografia sottostante. Quindi in questo caso non vanno bene i metodi di fusione della categoria Multiply ma quelli della categoria Add. Proviamo. Immediatamente il nero è sparito e se facciamo una preview vediamo che le fiamme si sommano con la fotografia sottostante. Il metodo Add come sappiamo è particolarmente intenso. Se vogliamo una fusione un poco più debole potremmo usare ad esempio Screen. E come notate subito le fiamme si vedono ugualmente ma sono meno intense rispetto a prima. Benissimo. Proviamo in un altro. Il fumo. Anche in questo caso come le fiamme abbiamo uno sfondo nero da annullare. Quindi usiamo ancora il metodo di fusione Add. Proviamo. Il metodo di fusione Add in questo caso forse rende il fumo un poco troppo chiaro. Quindi proverei anche Screen. E quindi il metodo di fusione Screen forse è più adatto per miscelare il fumo con le immagini sottostante. Bene. Prima di proseguire con altre immagini vi voglio segnalare un sito nel quale potete trovare molti di questi effetti qua. Ed è il sito di un direttore di fotografia che si chiama Mitch Martinez che mette a disposizione di chiunque il suo archivio di video. E come vedete potete trovare un po' di tutto. Immagini di liquidi colorati, fuoco, fiamme, inchiostro, particelle, fumo eccetera eccetera. Quindi video di effetti ma anche video di altri soggetti. Quindi vi consiglio caldamente di fargli una visita e sicuramente troverete degli effetti che fanno al caso vostro. Benissimo. Torniamo di nuovo in After Effects. Togliamo anche il video del fumo. Mettiamone un altro. Per esempio questo. L'immagine di un vetro rotto però su fondo nero. Quindi di nuovo ho bisogno di un metodo di fusione della famiglia Add. Proviamo. E immediatamente il nero sparisce. Rimangono soltanto le crepe bianche del vetro in sovraimpressione alla fotografia. Possiamo provarne anche altre. E Screen in questo caso forse è meno adatto di Add. Benissimo. Proseguiamo. Proviamone dagli altri. Questo per esempio. In questo caso si tratta di una texture. E in questo caso la texture è una tela. Come vedete qua domina il grigio ed è un grigio al 50% mentre la trama della tela è rappresentata dai puntini neri e bianchi. E in questo caso sono proprio questi che noi vogliamo mantenere mentre tutto quanto il grigio lo vogliamo annullare. E allora dei metodi di fusione usiamo quelli della famiglia Overlay. Proviamo. E infatti il grigio sparisce e rimangono soltanto le parti più scure e più chiare e quindi ci sembra di avere la fotografia stampata sulla tela. Proviamone anche altri della stessa categoria. Magari Hard Light. In questo caso il risultato è più contrastato e le maglie della tela si vedono di più. E addirittura se scegliamo Linear Light il risultato è ancora più intenso. Benissimo. Togliamo anche questo. Proviamo in un altro. La pelle per esempio. Anche in questo caso abbiamo le increspature della pelle bianche e nere su uno sfondo grigio. Quindi scegliamo di nuovo il metodo di fusione della famiglia Overlay. E di nuovo vediamo la fotografia con sovraimposte soltanto le increspature bianche e nere. E se usiamo Hard Light o Linear Light invece abbiamo come prima un risultato più intenso. Bene proviamone ancora un altro. Emulsione pellicola. In questo caso si tratta di un video che simula la grana di una pellicola cinematografica. Quindi di nuovo proviamo Overlay. Il grigio sparisce e rimane appunto quell'effetto granuloso in sovraimpressione alla fotografia. E se facciamo una preview questa granulosità è continuamente in movimento. E anche in questo caso se vogliamo un risultato più intenso possiamo usare Hard Light oppure Linear Light. Benissimo. Come avete visto in tutti questi casi abbiamo sempre applicato il metodo di fusione all'effetto o la texture sopra la fotografia. Però potremmo anche avere la situazione opposta. Cioè eliminiamo entrambi gli elementi. In questo caso come elemento di sfondo usiamo una texture fatta di carta e aggiungiamo al di sopra una fotografia. Magari questa qui della città di New York. Ora se applico un metodo di fusione alla fotografia posso fondere le due immagini. E in questo caso direi di provare con il metodo di fusione di Multiply in modo che le parti chiare dell'immagine cioè il cielo spariscono quasi del tutto e rimangano soltanto le parti più scure. Proviamo. E infatti qui si vede molto bene la grana della carta e qua sotto nelle parti scure altrettanto però rimane anche l'immagine della fotografia perché la fotografia qui è più scura. potremmo provare naturalmente anche altri metodi Linear Burn oppure altri ancora. Bene. Oppure al posto della fotografia potrei aggiungere un disegno. Questo qui e anche in questo caso potrei usare come metodo di fusione uno della famiglia Multiply. E questo è il risultato. Il disegno sembra stampato sulla carta. E con Linear Burn naturalmente ha un risultato più scuro. Bene. Queste sono le tre categorie di metodi sicuramente più usate. Adesso vediamo rapidamente anche le rimanenti. Per esempio incominciamo dai metodi di fusione della prima categoria quella di Normal. Normal è il metodo di fusione che normalmente hanno tutti quanti i livelli. E se vogliamo vedere contemporaneamente entrambi i livelli dobbiamo abbassare la loro opacità in questo modo qua. La stessa cosa vale anche per gli altri due metodi Dissolve e Dancing Dissolve. Proviamo. Lo applico. Come vedete a 100% non succede nulla. Mentre se abbassiamo l'opacità la casa comincia a fondersi con lo sfondo. Ma in questo caso l'opacità non si abbassa uniformemente ma soltanto su alcuni pixel. E più abbassiamo l'opacità e più i pixel spariscono. La stessa cosa l'abbiamo anche per Dancing Dissolve. E la differenza fra Dissolve e Dancing Dissolve è che questa terza opzione è animata. Cioè se faccio la preview come vedete la fusione è in continua evoluzione. Mentre invece se applico Dissolve la fusione è costante come si vede bene. Riportiamo l'opacità al 100% e adesso passiamo ai metodi di fusione della categoria successiva quella di Overlay. Quella che comincia con Difference. Tutti questi metodi di fusione qua che sono veramente poco usati non fanno altro che invertire i colori, la saturazione e la luminosità durante la fusione. Proviamoli rapidamente. Difference per esempio fonde la casa con la carta invertendone i colori. La stessa cosa avviene con Classic Difference. Exclusion ottiene un risultato molto simile. Subtract anche e con Divide addirittura abbiamo questo risultato qua. Bene adesso eliminiamo queste due immagini. Rimettiamo di nuovo i girasoli e sopra aggiungiamo questa immagine qua. La sfumatura da rosso a nero. Quindi torniamo ai metodi di fusione e come vedremo questi metodi di fusione qua fondono le due immagini agendo sulle varie componenti del colore cioè la tonalità, la saturazione o la luminosità. Proviamoli. Incominciamo con U che è la tonalità di colore. Come vedete questa fusione tiene conto soltanto della tonalità di rosso senza tener conto delle varie sfumature chiaro-oscure. Se invece usiamo il metodo Saturation viene presa in considerazione soltanto la saturazione e il risultato finale è la fotografia più colorata a sinistra e bianco e nera a destra. Proviamo il successivo Color. In questo caso viene fuso sia il colore sia le varie tonalità di saturazione. Quindi abbiamo proprio la fotografia colorata con i colori della sfumatura rosso-nera. E questo forse è il metodo di fusione più usato di questa categoria. E in ultimo abbiamo luminosità dove viene presa in considerazione soltanto la luminosità di pixel. Il risultato è che la fotografia è più chiara a sinistra e più scura a destra. Bene, adesso eliminiamo la sfumatura rosso-nera e mettiamo sopra i girasoli un disegno, per esempio questo qua. Bene, e adesso prendiamo in considerazione i metodi di fusione di questa categoria qui che va da Stencil Alpha a Silhouette Luma. Questi metodi di fusione si comportano esattamente come le maschere di livello, cioè fanno sì che il livello pacco regalo diventi la maschera dei livelli sottostanti. Proviamo il primo, Stencil Alpha. Il pacco regalo non si vede più, il suo contorno viene usato per ritagliare la fotografia sottostante, esattamente come succede quando attiviamo la maschera di livello. Ma la differenza qua è che il pacco regalo ritaglia tutti i livelli sottostanti. Quindi se per esempio aggiungiamo anche un'altra immagine, di nuovo New York, e la spostiamo un poco più a destra, vedete che entrambe le immagini vengono ritagliate dal pacco regalo. Bene, se voglio invece usare la forma del pacco regalo per fare un buco nelle immagini sottostanti, devo usare il suo opposto, che è Silhouette Alpha. Proviamo. E appunto, come vedete, le fotografie sottostanti sono bucate con la forma del pacco regalo. Mentre per quanto riguarda Stencil Luma e Silhouette Luma, anziché la forma del livello, viene preso in considerazione il bianco e il nero del livello, esattamente come succede per le maschere di livello di tipo Luma. Quindi, in questo caso, pacco regalo non è l'immagine adatta, quindi la tolgo e ci metto al di sopra questo video che non è nient'altro che una macchia bianca che si allarga su fondo nero. E noi possiamo usare questa macchia bianca per ritagliare le due fotografie sottostanti usando appunto il metodo di diffusione Luma. Incominciamo con Stencil Luma, in questo caso dove c'è il bianco vediamo le immagini, dove c'è il nero è tutto trasparente. E il suo opposto, ovviamente, è Silhouette Luma. Proviamo. Il bianco quindi buca e il nero mantiene. Benissimo. I metodi di diffusione dell'ultima categoria oggi non li prendiamo in considerazione e quindi la lezione di oggi finisce qua. E ci vediamo alla prossima. Ciao!